buongiorno a tutti allora oggi il cuoco ha preso la macchina del tempo è tornato indietro 65 milioni di anni fa ha fatto fuori un brontosauro poi l'ha fatto un po a pezzi l'ha preparato l'ha messo in ghiacciaia e l'ha portato indietro e quindi piano piano da qui a fine stagione lo utilizzerà per fare le bistecche perché guardate queste sono due bistecche di brontosauro noi a parte gli scherzi sono due balle milanesi mi consenta abbiamo due milanesi pelle fresche con l'aggiunta della piantina comunque eccole qui poi ci sono le patatine arrosto giustamente perché ci vogliono quindi adesso mi appresto a mangiare e naturalmente ci vediamo ai prossimi video che vi fanno sempre venire fame perché l'intenzione è sempre quella ciao